Il presidente della Proloco di Sapri, Amalia Bevilacqua, ha rassegnato le dimissioni. La decisione l'ha resa nota al direttivo nella seduta di sabato scorso. Negli ultimi tempi aveva perso la fiducia del gruppo e non sentendosi supportata nelle sue idee, ha deciso di fare un passo indietro. L'associazione, dice il presidente dimissionario, iniziava ad avere obiettivi e strategie diverse. Io iniziavo ad avvertire un po' di stanchezza dopo due anni e mezzo di intensa attività e per queste ragioni ho ritenuto opportuno cedere il passo a chi si ritiene più idoneo per l'importante incarico. Amalia Bevilacqua, durante il suo mandato, ha puntato molto su iniziative a favore della mobilità sostenibile e dell'ambiente. Con il supporto dei soci ha cercato di ridare vita anche allo storico carnevale saprese. Il direttivo ha dato inizio alle consultazioni per verificare se ci sono elementi al suo interno a cui affidare la carica di presidente, altrimenti sarà convocata l'assemblea dei soci per l'elezione del successore di Bevilacqua. In questa fase transitoria, a guidare la proloco saprese, sarà l'attuale vicepresidente Mauro Paparella. Nel direttivo, insieme a lui, ci sono altri cinque consiglieri. Sabato scorso, insieme a Bevilacqua, si è dimesso anche Carmine Brancaglione. In questa fase transitoria, insieme a Bevilacqua, si è dimesso anche a Bevilacqua,